A fronte di una bolletta dell'energia elettrica triplicata, passata da 3 milioni e mezzo nel 2021 a oltre 9 milioni nel 2022, la Sasi SPA di Lanciano investe quasi 64 milioni di euro in nuove opere. Il presidente Gianfranco Basterebbe, nella sede legale della Società del Servizio Idrico Integrato del Chietino, traccia il consuntivo di un anno definito impegnativo tra erogazione dell'acqua razionata anche nella stagione invernale e investimenti importanti, in particolare sulla ricerca delle perdite per oltre 14 milioni di euro. Altre risorse importanti saranno investite per l'interconnessione tra le sorgenti del Verde, Avello, Sinello e Capovallone, 14 milioni e mezzo per la realizzazione del potabilizzatore tra Altino e Rocca Scalegna, altri fondi ancora per la sostituzione delle pompe e quattro pozzi di Fara San Martino. Opere di estrema rilevanza è stato detto in conferenza stampa che dovrebbero concludersi in tre anni e dare finalmente una soluzione quasi definitiva ai disagi dovuti alla mancanza d'acqua, con il recupero di circa 150-200 litri al secondo. E d'altro canto c'è anche un risparmio sulle spese del personale? Sì, c'è un risparmio che per la prima volta sul costo del personale, ma non è tanto importante del risparmio. E' importante che finalmente siamo arrivati a concordare in modo definitivo con Ersi come proseguire nella struttura programmata fin dal 2020. Per quanto riguardano gli investimenti è stato un anno molto ricco di finanziamenti, circa 65 milioni con il PNRR, con quattro progetti. Dopodiché siamo stati chiamati ad anticipare l'indizione di gara che faremo il giorno 30, quindi stiamo lavorando anche Natale compreso, per fare in modo di aumentare di ulteriore 6 milioni e 700 mila Euro questi finanziamenti, che per il totale complessivo stanno intorno ai 65 milioni. E' importantissimo per noi, in quanto riguardano tutti i progetti relativi all'acqua, anche perché per la depurazione nel 2022, tra novembre e dicembre, abbiamo fatto appalti per 25 milioni di Euro riguardanti solo rete fognaria e depurazione.